Salve amici di Libri che passione, sono Simona Loiacono e sono l'autrice dell'Albatro Neripozza, del quale vi voglio leggere qualche pagina, qualche pezzetto. È la storia di due bimbi, uno dei quali molto speciale, si tratta di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il quale viene colto da bimbo in un'estate magnifica del 1903, quando non ha che pochi anni, e che viene narrato accanto ad un altro bambino, molto speciale anche lui, Antonio, un bimbo che fa, pensa e dice tutto al contrario. Nell'ottica rovesciata di Antonio, capisce subito il piccolo Giuseppe Tomasi di Lampedusa, si nasconde sicuramente un mistero, e all'inizio la conoscenza di questo bimbetto è davvero scompaginante, perché Giuseppe Tomasi non comprende come mai Antonio, invece di dire sì, dica no, invece di dire buongiorno, dica buonasera, e come mai sia convinto che per nascere si debba morire. Però via via che i due faranno un po' di strada insieme, Giuseppe Tomasi imparerà a comprendere che nell'ottica rovesciata di Antonio si nascondono molte verità. Ed ecco quindi il primo momento, quello in cui i due bambini si conoscono, e entrambi inizieranno a percorrere un pezzettino della loro infanzia insieme. Capitolo 1 Il nostro primo incontro non è stato memorabile. Ci siamo trovati così, l'uno di fronte all'altro, senza parole. Io con il completo all'inglese in gabardemblè, i pantaloni sotto il ginocchio, il gilet bordato di seta. Lui con la camicia arrotolata, di due misure più grande. Le sue scarpe erano estive, i calzettoni invernali, il cappello, una paglietta bucata sulla punta. Nessuno mi ha detto chi fosse. Era un misto di stagioni e taglie sbagliate, troppo piccole o troppo grandi, bottoni che pendevano e sagome prese a prestito da altri. Mi chiesi che razza di bambino fosse, non ne avevo mai visti di così perplessi. Sostava sotto il sole se gli dicevano mettiti all'ombra. Cacciava le mosche solo dopo che quelle se n'erano andate e per fargli dire il suo nome bastò che smettessi di chiederglielo. Era tutto al contrario Antonio e quando gli spiegai chi ero Giuseppe Tomasi di Lampedusa capì solo l'ultima parola, la scambiò per una medusa e senza incertezze si spogliò, restando in mutande, ridendo all'idea che lo avessero portato al mare. Ecco il mio Antonio, ecco il mio Albatro, grazie e un felice proseguimento di giornata.